Occhio allo schermo, signore e signori. Vista la svista, errore numero 8 del concorso. Aperta la caccia, in bocca al lupo. Attenzione. Alla cassa del bar non dimenticate di chiedere la scheda. Vi spetta con lo scontrino del Cora Dry 33, l'aperitivissimo o del classico Amaro Cora. Concorrerete alla vincita di un complesso di 70 milioni di premi. Un grazioso bar, bello che pare dipinto. Naturalmente sono abolite le mance, ma il cameriere non accetta la regola. Ma che fate? È nel mio diritto, signorina. Quale diritto? Al cameriere spetta il 15% sulle consumazioni. Oh. 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 Ma questo caffè brucia maledettamente. Un po' vento, un po' vento. Ma cosa fate? Siete pazzo? L'ho freddato. Siete pazzo? Siete pazzo? Siete pazzo? Siete pazzo?